Lando Buzanca, un focoso sacerdote trasferito a Roma dalla Natia a Sicilia, è il protagonista del film che avrà inizio tra pochi istanti, il prete sposato di Marco Vicario. Travolto dalla dolce vita, circondato dalle donne più belle, il nostro sacerdote andrà in crisi perdendo totalmente il senso della realtà. Rossana Podestà, Salvo Randone, Barbara Boucher, Mariangela Melato ed Enrico Maria Salerno sono gli ottimi partners di Buzanca in questo film che affronta con Tony Allegri un argomento molto difficile. Al termine il nostro appuntamento in vista delle prossime elezioni, Speciale Europa Voti e Volti e per concludere un drammatico film di guerra interpretato da Richard Thomas e Michael Brandon, il distintivo rosso del coraggio. Vi voglio inoltre ricordare che anche domani sera alle 20.25 trasmetteremo un recentissimo film per la prima volta in televisione, Cercasi Gesù, una graffiante satira sul nostro mondo cinico e materialista diretta da Luigi Comincini e interpretata da Beppe Grillo e Maria Schneider. Ed ora vediamo insieme il prete sposato. Buona serata.